Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo parlando di questa notte decisamente complicata e anche rocambolesca perché ci sono stati ben tre colpi, uno non andato a segno nel Fiorentino, due invece andati a segno nell'Arettino e a causa proprio di un inseguimento appunto nei confronti della banda di malviventi, due carabinieri sono rimasti feriti. I malviventi hanno agito in due distinti siti nell'Arettino e uno nel Fiorentino, figli Nevaldarno. In questo momento sono in corso le indagini per capire se si tratti della stessa banda. A Monte San Savino è stato fatto saltare in aria il bancomat della banca Centro Toscana e Umbria portando via circa 8 mila euro. A quell'ora lì, qua giù c'era un sacco di gente, i piazzali lungo la strada. Un rumore forte. Sì, tutto. In Valdarno invece sono stati presi di mira due bancomat che si trovano in entrambi i casi presso i due supermercati Coop. Per quello di San Giovanni Valdarno il bottino si aggirerebbe intorno ai 50 mila euro. Subito dopo il colpo è scattato l'inseguimento della banda da parte dei carabinieri e mentre stavano percorrendo via Poggilupi l'auto dei militari si è ribaltata. I due carabinieri, due uomini di 21 e 54 anni, sono stati trasportati con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale delle Scott di Siena in codice giallo. Sono in prognosi riservata ma non sarebbero in pericolo di vita. In questo momento sono in corso indagini e approfondimenti da parte dei carabinieri che stanno visionando anche le immagini delle telecamere di videocontrollo per capire se i colpi siano da attribuire alla stessa banda. E allora su questo ci sono anche le parole del Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni raccolte dalla nostra Chiara Sadotti a margine di una iniziativa a Cavriglia. Sentiamo. La sicurezza oggi è uno dei problemi fondamentali nella vita delle nostre comunità e noi vorremmo dare fino in fondo il nostro contributo. La solidarietà ai carabinieri che hanno vissuto stanotte questo momento così drammatico e la solidarietà a tutti gli uomini in divisa che lo vediamo ogni giorno presiedendo le nostre condizioni di ordine pubblico e sicurezza ma lo abbiamo visto quanto si sono impegnati anche nell'alluvione che ha caratterizzato soprattutto i luoghi da Firenze a Pistoia. Per fortuna senza toccare le due grandi città. E ancora un'aggressione nella retino durante lo svolgimento di un servizio sanitario è accaduto ieri a Capolona, comune del Basso Casentino, intorno alle 22. Un gruppo di professionisti del 118 della ASL Toscana Sud-Est, si apprende proprio da fonti sanitarie, era intervenuto in un luogo privato assieme ad alcuni volontari della misericordia di Subbiano per un soccorso. Improvvisamente un giovane si è scagliato contro l'ambulanza rompendo i finestrini del mezzo e inveendo con minacce verso gli operatori sanitari che però non hanno riportato alcuna ferita. Oltre a ringraziare le forze dell'ordine intervenute sul posto, l'azienda sanitaria, l'ASL Toscana Sud-Est, si riserva assieme agli stessi operatori la possibilità di presentare una formale denuncia nei confronti dell'aggressore. Le hanno trovate in possesso di cosmetici che, secondo gli accertamenti, erano spariti dagli scaffali di un supermercato poco prima. Sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Castiglione Ferentino, coordinati dal comandante Marcellino Lunghini, a individuare appunto le due ladre. Adesso invece siamo alla cronaca giudiziaria, torniamo a parlare del doppio femminicidio che avvenne ad Arezzo nella notte tra il 12 e il 13 aprile scorso. Sconvolse l'intera città perché Jawadisham, un 38enne di origini magrebine, uccise a coltellate la compagna e la suocera. Oggi la seconda udienza appunto presso la Corte d'Assise di Arezzo e quest'ultima ha rigettato la richiesta di una perizia psichiatrica. La richiesta d'aiuto e poi l'intervento in via Benedetto Varchi nel cuore della notte, la notte in cui Jawadisham uccise la compagna e la suocera. Attimi terribili ripercorsi questa mattina in tribunale di fronte alla Corte d'Assise. Prosegue così il processo per la morte di Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi con l'audizione dei testimoni. Ascoltati i due agenti della Polizia di Stato, primi ad intervenire sul posto, poi il medico legale Mario Gabrielli che ha descritto la ferocia dell'assassinio consumato sotto gli occhi dei figli della coppia. 23 le coltellate sferrate contro la compagna, 3 invece quelle che hanno raggiunto la suocera. Ed infine l'allora comandante della Polizia penitenziaria del carcere di Arezzo. Il livello emotivo è molto pesante, molto. Cioè trattenere il tutto dentro, però abbiamo speranze e fiducia nella giustizia. La difesa di Jawadisham ha chiesto di sottoporre l'uomo a perizia psichiatrica richiesta alla quale si è opposta la pubblica accusa e le parti civili e che è stata rigettata dalla Corte. Cioè per quale motivo? Basta vedere che è un escamotage per avere una diminuzione di pena. L'ostruzione dei fatti poi come emerge dagli atti processuali si rileva in tutta chiarezza che l'imputato al momento del fatto, nel posto immediato, era pienamente lucido, orientato, capace di intendere e di volere. La telefonata al 112 alle ore 1.03 dimostra la sua piena consapevolezza quando ha detto commesso un reato enorme. Vi ha benedetto Varchi, correte veloce, veloce, quindi percezione anche della gravità dei delitti commessi. I due figli di Sara e Jawad, un ragazzo di 17 anni e una bimba di due, si erano costituiti parte civile come procuratore speciale, il nonno. E purtroppo le cronache ci consegnano l'ennesima notizia di un altro femminicidio, una giovane di appena 22 anni Giulia Cecchentin, che appunto era scomparsa sabato scorso e il suo corpo è stato ritrovato ormai esanime vicino al lago di Barchis a Pordenone. L'ennesimo femminicidio dicevamo che ovviamente sconvolge ancora una volta l'opinione pubblica, ovviamente anche quella aretina. Rafforzare le leggi, afferma futuro aretino, è necessario che si adottino leggi e politiche che puniscano severamente la violenza di genere. Fondamentale è anche promuovere la creazione di reti di sostegno tra le vittime in modo che possano condividere le proprie esperienze e trovare supporto. Rilevante, dice ancora l'associazione aretina, è coinvolgere anche gli uomini nella lotta contro la violenza di genere, promuovendo modelli positivi e incoraggiando il loro impegno per il rispetto delle donne. Adesso invece parliamo di liste di attesa perché la giunta regionale toscana, su proposta dell'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, ha messo in campo nuovi strumenti per appunto abbattere le liste di attesa. Il progetto si chiama Clessidra e si articolerà su tre livelli. Il primo prevede l'esecuzione di prestazioni nel normale orario di lavoro, il secondo in orario di produttività aggiuntiva. Un terzo livello invece riguarderà la possibilità appunto per un dirigente medico che ha già svolto attività nei primi due di aderire ad un progetto incentivante che riguarda i medici in rapporto di esclusività con obiettivi prefissati e un premio economico finale, ovvero 500 euro ogni 10 visite. Vedremo insomma se questa ricetta poi funzionerà. Una campagna di informazione nelle farmacie comunali di Arezzo per la prevenzione dell'influenza. L'iniziativa è in programma fino al 25 novembre e nasce come un'occasione per stimolare un confronto tra farmacisti e cittadini volto a mettere in evidenza le corrette pratiche e le piccole attenzioni necessarie per arginare i più comuni malanni ovviamente collegati insomma al stagione in corso. L'invito è appunto a rivolgersi al personale delle farmacie, delle otto farmacie comunali della città e delle frazioni per ricevere delle consulenze gratuite. E' arrivato il freddo anche se non troppo insomma e con esso puntuale è arrivata anche la città del Natale. Una città che presenta un lato magico ai visitatori ma lo presenta anche agli aretini che non tutti conoscono questa realtà della città del Natale. E' vero che sono otto anni che la facciamo ma ogni anno ce n'è un pezzetto in più, un pezzetto diverso, un pezzetto più curioso. Quest'anno in particolare ci sono delle belle cose in fortezza non perché qui non ci siano e il percorso di collegamento con la fortezza è veramente spettacolare. Arezzo dà il suo volto migliore in questi giorni e ritengo che sia non soltanto un evento fine a se stesso e già per questo basterebbe ma è il biglietto da visita che noi porgiamo a chi viene per la prima volta ad Arezzo e viene in occasione della città del Natale e poi ritorna per vedere le bellezze che comunque Arezzo presenta tutto l'anno. Città accogliente, una città che è diventata anche molto accogliente rispetto a qualche anno fa nel senso proprio del termine, cioè i turisti ora sono veramente considerati una risorsa no? E quindi c'è stato anche un cambio di mentalità. In questo periodo chiaramente abbiamo un afflusso importante in un periodo di tempo ristretto che crea anche qualche disagio senza ombre di dubbio, però è un disagio che sopportiamo ben volentieri. Quest'anno poi particolarmente c'è davvero un grandissimo sforzo per creare un ambiente così accogliente, così anche fantastico e i risultati poi sono sotto gli occhi di tutti, la quantità di visitatori, ovviamente di chi si è avvicinato ad Arezzo anche forse per la prima volta, è la testimonianza con i flussi che ci sono davvero di grandissima soddisfazione sull'impegno che tutte le istituzioni, tutti noi ci siamo in qualche modo posti per questo Natale e Capodanno 2023-2024. E allora in concomitanza con l'avvio delle iniziative della città del Natale che come avete visto hanno già portato ad Arezzo tanti turisti, è stato riaperto anche l'info point della stazione, lo annuncia proprio la fondazione Arezzo Intorno, un importante punto di informazioni turistiche che si trova in Piazza della Repubblica, proprio in prossimità della stazione ferroviaria. Gli orari di apertura saranno tutti i giorni ad eccezione del mercoledì con orario 9-12-13-17. Ci spostiamo adesso a Cavriglia perché in questo caso, in questo angolo del Valdarno-Aretino, sta nascendo un campo da golf di rilevanza internazionale. Ufficializziamo l'inizio dei lavori, dell'ampliamento e della trasformazione del campo da golf in un campo di livello almeno nazionale a 18 buche, ma abbiamo allargato questa iniziativa a quella che l'amministrazione comunale ama chiamare trasformazione di una terra. La prima pietra del nuovo campo da golf a 18 buche di Cavriglia è stata posata, lavori che faranno del green valdarnese una struttura internazionale. Chiaramente poi sta a noi essere bravi, di poter essere attrattivi e realizzare le giuste connessioni con la federazione per fare in modo che Cavriglia diventi un polo di alto interesse sportivo anche per la disciplina del golf. 4 milioni di euro destinati al paese delle miniere, fondi PNRR, per mettere a punto gli interventi nell'area di Valle Alpero e per ampliare il campo da golf fino ad un totale di 18 buche. Non è solo un impianto pubblico per chi gioca a golf, questo è un elemento di cesura tra il futuro parco dello sport che sarà realizzato alle mie spalle, un investimento da 70 milioni di euro e che darà lavoro a 300 giovani e la futura riqualifica dell'area mineraria. Immaginate se non avessimo a disposizione il campo da golf che salda queste due aree, sarebbe questo un'opera incompiuta. Da Cavriglia, grazie alla Misericordia, anche una mano tesa alle popolazioni alluvionate. Siamo riusciti tramite un appello che la Misericordia di Cavriglia ha lanciato ad ottenere anche alcune idrovore, alcune idropulitrici che possano aiutare nell'eliminare i rimanenti depositi di fango che sono nella zona alluvionata. Anche quest'anno in occasione della giornata nazionale degli alberi, il prossimo martedì 21 novembre verranno messi a dimora nuovi alberi nel giardino del dialogo collocato nel risedio accanto all'orto, la scuola primaria Alcobaleno, così come in tutta la rete delle scuole green della provincia di Arezzo. Siamo ovviamente nel comune di Civitella in Valdichiana. Piantare un albero significa costruire le radici del futuro. L'istituto comprensivo Marteri di Civitella, capofila della rete green delle scuole della Toscana, vuole così dare un segnale contro appunto il cambiamento climatico e a difesa della terra. In concomitanza a questo, nella stessa mattinata, si terrà anche la consegna degli attestati di cittadinanza onoraria agli alunni, figli di genitori stranieri ma residenti nel comune di Civitella in Valdichiana, nati proprio in Italia, che appunto frequentano le classi quinte con l'attestazione che sarà consegnata proprio da parte del sindaco Andrea Tavarnesi. Ed infine siamo allo sport. Domani l'Arezzo affronta l'insidiosa trasferta della Ternana e in queste ore è stato il direttore generale Paolo Giovannini a rassicurare l'ambiente. Siamo ad un terzo del campionato, scrive in una nota, i programmi vanno come previsto e non è una partita andata storta a poterci condizionare. Non potrebbe essere diversamente chi è in questo circo del calcio da molti anni come me, dice, è abituato a vedere i campionati come una corsa a tappe e a non perdere di vista l'obiettivo finale. Stiamo facendo il Giro d'Italia o il Tour de France, dice ancora Giovannini, non la finale dei 100 metri e siamo comunque consapevoli che qualche tappa può andare anche storta, ma questo non compromette appunto tutta la corsa. E ancora sempre dall'Arezzo arrivano notizie dall'infermieria perché è stato perfettamente riuscito l'intervento chirurgico del calciatore amaranto Lorenzo Polvani effettuato nel tardo pomeriggio di ieri a Milano. Sono confermati anche i tempi di recupero che prevedono per il ritorno in campo del difensore appunto dopo la sosta natalizia. Domani invece l'Arezzo Calcio Femminile torna a giocare al Comunale, arriva il Parma. Sentiamo le parole di Mr. Mike. Dobbiamo essere un po' attenti soprattutto quando giochiamo questo tipo di avversari come Elas, come Parma che abbiamo domenica. Lo sappiamo, lo sappiamo che sono squadre che hanno qualità. Noi questa settimana abbiamo lavorato più nella nostra organizzazione e nelle nostre transizioni per quando lasciano lo spazio per trovarlo velocemente. Quindi abbiamo fatto un buon lavoro, le ragazze sono state molto attente e sì, entriamo in questa gara preparati. I su Paganini sì, l'avremo nella prossima partita contro Freedom, quindi lo sa anche lei, però anche lei ha lavorato molto bene questa settimana, è sempre pronta questa ragazza e quindi ha l'atteggiamento giusto come tutta la squadra per allenarsi per il migliore. Su Parma, sulla classifica, sì, lo sappiamo, è una squadra che ha alti aspettativi e noi ci andiamo in questa partita preparati per fare questo lavoro che abbiamo fatto contro tutte queste grandi squadre come la Lazio, come la Ternana. molto concentrati in questa fase iniziale del campionato e prepariamo bene la nostra partita. E sempre domani la scuola basket Arezzo avrà di fronte a sé un'altra sfida contro il basketball club Lucca al Palasport Estra. Dunque gli Amaranto ritrovano gli avversari della semifinale playoff della scorsa stagione. i biancorossi lucchesi, infatti, erano stati ammessi a partecipare al campionato di serie B con alla guida il nuovo tecnico Olivieri. Si stanno ben comportando anche fino ad ora in questo campionato con otto punti di classifica, due in più dell'Amen BC Servizi. Si inizia alle 18 al Palaestra. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e arrivederci. Grazie per l'ascolto e arrivederci.